Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Sono l'Asia dei liquori. La sorella di Beatrice dei liquori. Mi promesso di vi facciamo un video che stavo a Roma, come inizia, ma non ci sono, quindi sto solo a Roma, da sola. Vi voglio solo dire che il prossimo video con Beatrice lo faremo, oddio, non mi ricordo più, e domani, domani che è Pasquetta, che è lunedì, perché dobbiamo dare San Giorgio, la nostra azia, Mirella, ora la faremo vedere, e ve la farò vedere più tardi, no? No, volevo dire domani, salutare Beatrice, se no se non prendo il lasso un giorno che siamo in campagna, San Giorgio che stiamo in campagna, e lo faremo un altro giorno, di sabato o venerdì, ok? Ciao, a presto, ciao a presto.